Ciao a tutti, popolo del tubo, bentornati in un nuovo episodio della mappa AmarCord, della serie AmarCord qui sulla OAC Field Farm su Cast Edition AmarCord, ma sa che nome lungo sta mappa Allora, metà primavera, metà primavera, i nostri campettini 12 e 1, 12 e 1 sono ancora in fase di crescita, anche se visivamente sembra che siano pronti ma avete scritto nei commenti, no non è un bug della season, Robby non è un bug della season ma nella realtà capita spesso che la cultura sembra pronta ma in realtà il chicchetto dentro non è maturo quindi adesso me ne metto uno in bocchetta, lo sto assaggiando, no no non è maturo non è maturo quindi dobbiamo più 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 lo sputazzo, dobbiamo dobbiamo aspettare anche qua non è maturo, allora andiamo allora a fare qualcosa, perché qualcosa dovremo fare in questa benedetta puntata anche se non è maturo allora innanzitutto ho preso la T-Rex, la Trex lì, che tra l'altro ragazzi ve la consiglio l'hanno aggiornata, quella per tagliare gli alberi, per farli sparire è uno spettacolo, taglia gli alberi in un secondo, proprio così c'è una cosa fantastica, quindi amici provatela se non avete provato il nuovo aggiornamento della Trex perché è uno spettacolo poi ho dato il diserbo ai miei campi d'erba perché non ci crederete ma l'erbaccia è un problema anche sull'erba perché fa produrre meno e quindi ho dato il diserbo anche sull'erba poi andando oltre andiamo sull'altro campo, il campo numero 16 e come potete vedere, come potete vedere il mio campo 16 l'ho seminato a semi di soia i semi di soia come sapete con la precision farming non richiedono assolutamente concime quindi vedete che il valore dice scarso ma dovete stare tranquilli perché è perché non vuole niente praticamente, non gliene può fregare di meno del concime la soia che appunto è una zoto fissatrice quindi con la precision farming non vuole niente hanno fatto le cose molto realistiche con la precision prima vogliamo le cose realistiche, poi fanno le cose realistiche e ho letto che molti non ci giocano più perché è troppo realistico vabbè, vasci a capire qualcosa detto questo, altre cose da dirvi non ne ho, devo portare avanti il tempo per quanto riguarda i vitelli abbiamo venduto quelli più vecchi l'altra volta e nel giorno di gioco di domani, adesso mandiamo avanti il tempo venderemo quelli un po' più vecchi, quelli che c'erano rimasti e ne compreremo di nuovi, quindi mandiamo avanti il tempo go avanti to the time per parlare in inglese go avanti to the time and go 12 hours of sonnos mamma mia che padronanza dell'inglese che c'ho raga è normale che un po' la ghicchia sta mappa quando mandate avanti il tempo non mi chiedete il motivo perché non lo so ma è normale è normale, quindi dammi un attimo un po' di tempo di riprendersi oh piove, piove, bello, mi piace quando piove sul campo non si può fa niente ammazza quanto piove, ammazza se piove, go to the pioves, go to the pioves andiamo un attimino a gestire sti cacchio d'animali come vedete ci abbiamo le limousine queste un po' più giovani 0-7 anni che sono 300 kg ma ci abbiamo anche le limousine quelle più vecchie che però sono abbastanza giovani anche questi qua, sti vitelletti qua io direi di farli crescere almeno a farli arrivare a 600 e poi li venderemo non li vendo io, li venderemo a un amico mio che passa viene qua, li viene a caricare e li vende quindi adesso gli buttiamo dentro un po' di cibo prendiamo un po' di qua di cosina puliamo un po' la mangiatoia è un'operazione questa che facciamo tutte le mattine e ormai siamo abbastanza abituati infatti vedete che sto andando a tempo di record tempo di record, spar the pile spar the pile oggi parlo in inglese ragazzi, sapete che oggi è sono multi language ok, spar the pile a post, a post faccio back march cioè retromarcia, back march e a postino niente, l'ha mangiato gli a posto ma come non mancano queste vacche? sono sti vitelli, quello che cacchio so sono inappetenti, sono inappetenti sti vitelletti ok, a posto per quanto riguarda, raga, quest'anno la fienaggione io mi concentrerei di più sul fieno perché, perché come vedete grazie al salsiccione che abbiamo fatto l'altra volta e beh, di insilato ne abbiamo pure troppo mentre di fieno come potete vedere siamo pieni lo stesso quindi abbiamo sia fieno che insilato quindi non è la nostra priorità è molto più priorità la paglia la paglia che teoricamente la dovremmo fare con l'avena quando andiamo a trebbiare quindi dovremmo stare in una botte de fero in una botte de fero a sto punto intanto io vado su vediamo un attimino com'è l'erba l'erba che pare non voler crescere che è successo? erba, non cresci più comunque dicevo insomma, non vedo molte altre cose da fare se non mandare avanti un altro giorno di gioco perché effettivamente abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare e questo purtroppo è il problema della season che vi dovete sempre a meno che non ci avete tanti campi che non avete l'azienda avviata dovete sempre mandare avanti il tempo quindi fine primavera mandiamo ancora avanti il tempo andiamo in estate adesso faccio un taglio rifaccio mangiare le vacche ci vediamo quando ho qualcosa da fare c'ho niente da fare che devo fare? oh ragazzi mi ero dimenticato una cosa fondamentale le piante da frutto il nostro frutteto il nostro frutteto che ci darà tanti 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 soldini me l'ho dimenticato quindi abbiamo secondo me ancora un po' di spazio per mettere altre pesche per mettere altre peschette e quindi voglio innanzitutto potenziare sti 110 cavalli del Fiat Winner quindi voglio daie più motore perché vedo che veramente veramente Vermont, Vermont, Vermont l'amore sul Vermont ecco veramente vedo che fatica fatica a portare il carro quindi adesso da F110 lo portiamo a F140 sperando che fatichi meno prendiamo la scorciatoia dei campi così così abbiamo andiamo più velocemente guardate i soldi che abbiamo fatto pur senza fare niente cioè quei 200.000 euro che voi vedete lassù sono soldi che io ho fatto senza assolutamente fare niente cioè con con gli alberi da da pesca che abbiamo messo con i peschi credo che si dicano peschi perché la frutta si dice al femminile no la pesca l'albero il pesco quindi con i peschi plurale i peschi eccoli lassù eccoli lassù vedete oh fatica pure con 140 cavalli ma che è non è concime è cemento cioè che fanno la cacca così solida ste vacche stivitelli che praticamente diventa cemento però vedete adesso col fatto che ho tolto gli alberi è molto più facile raggiungere una zona piuttosto che l'altra molto 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 più facile c'è molta meno strada da fare ecco fatto già che ci siamo diamo una controllata pure alla soia che è in fase di crescita vediamo un attimino io direi che qua ragazzi ci vanno altri alberi altri alberi assolutamente altri alberi sempre pesche sempre pesche fiori rosa fiori di pesco cantava Battisti allora sempre sempre solo pesche raga siamo dei pescatori l'avete capito pescatori quelli che fanno le pesche no quelli che coltivano le pesche i pescatori ho capito ma c'era schifo come battuta vabbè allora così non troppo là vicino al campo perché se no mi si deforma tutto qua dai va bene così va bene così dai e va bene così che già sarà abbastanza deformato di suo come come terreno no dai mi ha switchato aspetta va bene dai vanno bene vanno bene gli alberi di pesco così dai dai perfetto guardate il nostro bel pescheto il nostro peschetino come come va rigoglioso allora inizio con un po' di cacchetta per poi passare per poi passare all'acquetta vi ricordo che se voi mettete acqua se voi mettete acqua aspetta che non mi ricordo il lato di scarico apri F1 no quali indietro destra ok adesso dovrebbe essere il latino giusto dovrebbe essere il latino giusto ma non le prende lo stesso per quale motivazione non lo so ok 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 perfetto 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 il pescheto il nostro pescheto come si chiama un un frutteto di pesche il pescheto il pescatore come si può chiamare non lo so allora diciamo il pescheto dai pescheto oh la logica mi dice pescheto ok ammassa quanto magnano ammassa quanto magnano de 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 cacchetta raga se ne magnano de cacchetta sti peschi però c'è da dire che nemmeno consumano tanto eh cioè 3-4 giorni di gioco ce li fate benissimo con acqua e letame l'acqua ne consuma ancora meno rispetto il letame oh k tra l'altro ragà in farm adesso torniamo in farm che dobbiamo rifare il pieno di cacca in farm come avete visto ho messo dei nastri che sono usciti qualche giorno fa sul modab a proposito di modab la giants è sempre in ferie eh qualcuno mi ha scritto ma come avevi detto che la giants è in ferie la giants è in ferie però noi ovviamente non essendo hacker non è che possiamo entrare nel loro pc e vedere aia mamma mia ho spaccato tutto e vedere se hanno programmato mod chissà per quanti altri giorni quindi io ve l'avevo detto un po' di video fa ve l'avevo detto ve l'avevo detto è possibile che la giants si sia portata avanti con il lavoro e abbia programmato mod anche per altri giorni io questa cosa qua ve l'avevo detta quindi è molto probabile che sia andata così ma non sappiamo se hanno programmato mod per tutta la settimana o per solo qualche giorno questo non lo sappiamo comunque tra le mod che sono uscito è uscito questo nastro qua che però perlomeno a me ha dato la telecamera buggata cioè quando voi entravate avevate la telecamera da sotto io me la sono modificata da solo sono entrato nell'i3d ho sistemato la telecamera adesso a me funziona però sappiate che il nastro è carino è bellino funziona bene è pure veloce solo che è basso io perlomeno non sono stato capace di alzarlo forse perché non mi ci sono messo più di tanto a testarlo però è basso quindi non lo potete usare coi carri alti e poi e poi appunto c'è sta telecamera un po' sballata ma per il resto è molto carino è fatto bene e me lo sono messo me lo sono messo nella mia bella farmettina ecco qua raga dobbiamo pensare alle pesche purtroppo perché i campi come vedete quanto dobbiamo aspettare per trebbiare ecco già nel giorno di gioco di domani sarà possibile iniziare a trebbiare la soia meno male così ci arriva qualche euretto dalla soiola allora bisogna stare attenti dove si passa perché come avete visto il trattore rischia lievemente di venire sollecitato da dei piccoli sbalzi dovuti ad una impercettibile irregolarità del terreno sappiatelo mamma mia ho mangiato il vocabolario non lo so non lo so raga non lo so comunque sti peschi ci porteranno tanti soldini questo è quello che conta questa è la vera cosa che conta oh e dai e namo e namo però e namo ok probabilmente trebbieremo in live io questo non lo so dipende sempre dal dal tempo qua dal cosino non lo so ragazzi non lo so intanto qua scarica dall'altra parte vabbè chi se ne frega chi se ne frega comunque vi ricordo che in descrizione cari ragazzetti miei trovate il mio l'altra mia piattaforma l'altro mio account dove sono i live tutte le mattine alle 11 e tutte le sere alle 20 e 30 sarò insieme a voi per chi lo vorrà anche il giorno di natale anche a natale Robbimello non ve lascia nemmeno a natale probabilmente i giorni di natale il giorno di natale il canale youtube magari avrà un video invece che due probabilmente però per quanto riguarda l'altra piattaforma sarò regolarmente in in live allora aspetta che scarichiamo un pochettino scarichiamo un pochettino ok con cime non accettato qui ma che me sta più in giro ma che me sta più in giro ok andiamo anche qua ok 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 niente niente raga purtroppo questa è una puntata in cui non c'è molto da fare se non curare il nostro bel frutteto ammazza però quanto consumano bisogna prendere la cacca torno subito ecchi me ecchi me raga ecchi me che è non me l'accetta qua ok c'è il trigger un pochetto storto abbiamo quasi finito abbiamo quasi finito perlomeno abbiamo un modo per togliere tutto sto concime detorno perché qua tutto sto concime tutta sta cacca tutta sta cacca che fanno stivitelli perlomeno abbiamo un punto dove usarla visto che ancora non abbiamo il biocasse per vendere la parte che penso che su sta mappa si possa vendere eh credo se non ricordo male si può vendere da qualche parte allora facciamo così visto che adesso ho finito con la cacca stacco un attimo il carro e vado a riempirmi la botte dell'acqua che c'ho qua su tra l'altro ho messo anche una fontanella proprio per non fare tanti viaggi come faccio con la cacca una bella fontanella per i nostri bei peschettini non li ho messi sul lato di qua ma penso che anche di qua li metterò appena avrò un pochetto altri soldi vedete cioè adesso li ho messi tutti sul lato sinistro li metterò anche sul lato destro ecco qua la botte con tanto di acqua con tanto di acqua ok ok dai raga curiamo curiamo i nostri alberetti che ne hanno veramente tanto bisogno così ci arriveranno tanti bei soldini per i prossimi giorni di gioco che manderemo avanti perché penso proprio che purtroppo finché non non è pronta da trebbiare la colza ci sarà da mandare avanti solo che il tempo the time detto questo raga niente io sono arrivato agli sgoccioli di questo bel video come al solito ringrazio tutti voi di avermi seguito di averlo seguito fin qua grazie 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 ragazzi lasciate un bel like iscrivetevi se non siete iscritti condividete con i vostri amici aiutatemi a crescere insomma aiutate aiutate il canale a crescere ragazzi a proposito di persone che aiutano il canale grazie agli amici abbonati anima vita al cuore del canale che consentono al canale di sostenersi di andare avanti e di portare tutti questi contenuti che spero vi piacciano tanto grazie 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 agli amici del canaletto niente raga in descrizione i miei link partner giants per comprare anche qualsiasi cosa riguarda la giants quindi il gioco i dlc eccetera eccetera dai miei link di affiliazione in modo che aiutate anche la partner del canale grazie e vabbè l'altra piattaforma il mio merchandising eccetera eccetera ragazzi noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao